Stiamo lavorando malgrado tutto, però certo non sono più le quantità di prima, gli enti non si vedono, è un po' difficile francamente al momento. Ma io spero che se non a gennaio, a giugno, si dovrebbe ricominciare a fare un discreto lavoro. C'è la tendenza a una linea comfort senza esagerare, però diciamo che le persone forse hanno capito che la scarpa deve essere bella, ma soprattutto deve essere confortevole e questo tutto sommato non è male. Un po' tutta l'Europa è stagnante come previsto, però io credo che altri paesi dove, per esempio i paesi arabi, dove le cose stanno andando diversamente si possa in qualche modo lavorare meglio.